Vincere al Palermo in verde contro il Dinamo in rossa amaranto. Vincere al Palermo in rossa. Grazie a tutti. 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 Hey. Vai. 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 State crescendo in intensità Perché sono uscito io La tua stima di magro Ma è divinché si andava a vedere La più sfigata del mondo del Barcellona Senza Messi Forse è stata dopo sei anni La prima partita dove Messi è un gioco Che assurdo 4-5 gol a partita Barcellona normalmente 1-0 all'ultimo A culo diciamo Tanto per dire dai uno lo faccia Ha dominato il Levante Che ha fatto diventare il Levante uno squadrone Poi si andò a vedere L'anno scorso Due anni fa si andò a vedere Il World Tour di tennis I migliori otto La partita è in Inghilterra No era tennis I migliori otto Si andò a vedere il mio caso Si andò a vedere qualcosa Io mi ricordo i migliori otto di tennis Si sono capitati tipo il settimo e l'ottavo Che era un Verdi E un altro Tra Federer, Renatale, Diokovic Ti capito? Vertic contro Vaprinka Tipo una cosa del genere Comunque Per chi ne capisce I tennis è sempre uno spettacolo Per i professionisti Io ne capisco niente No è spettacolare Su il minimo Se lo ha fatto dell'arbitro Si mi ha spiegato Delle tre o tre giornate Qualcosa ci ha parlato con lui L'avete sentito Ah no con lui direttamente Ma manco l'audicina Nessuno Penso di no Gran donna della Dinamo Quanto? A Reggio Ora avete segnato Sì La corcione La corcione Te ne vai bene Perché? Mi fa come già faremmo Allora che ti importa Dici tu Hai salutato a Gianmatteo Ti cercava Ti cercava Gianmatteo Mi hai salutato Mi hai salutato Dici tu Non è Mi ha appassionato Ma poi Dici per forza Non ti dobbiamo perdere a Palermo Le banane Non lo so Non lo so Ho messo a andare Ma posso? Ti chiedi a tre La parte No no Non è tutto Non è tutto Ma ho messo a tagliare Ah sì Che ha parlato in Sicilia Vai Marco Faraone Che parla in Sicilia Ti ho pagato la banca Va a me Ciccio Ripiti un secondo di video Che c'è Nicolicchi al telefono Non lo so Non lo so Ciao mamma Ciao mamma E poi E poi E poi è specchio Goal 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 Dinamo Chi ti avvicina? Sono qua Dai Serafiparo Basta Siamo qua Giorno Siamo qua In primi tempi Dici roba Devo fare Bravo E' il 4 a 2 E' il 4 a 2 Ti ho fatto un favore per il primo posto Ti ho fatto un favore per il primo posto Sì Dai a qua Dai a qua Dai a qua Dai a qua 4 a 2 Sì 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 Ma voi che ti puoi mettere il fermo Vado un po' sempre E' il tutto da quello Che fa? Non si può sapere Non si può sapere Non si può sapere Che cosa? Lascio Sì 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 E' un cazzo che come si ha Ah Non avanti a dare Sì 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 Poi io Nel Facebook che dice cacci cacce Cacci Catterpiller Rella Lai da noto Io avevo visto anche una ballerina Questa è a mai tirare a gollo Vabbè ancora che va a scuola però è una vergogna Non lo dire Mi chiamo Maddaloni Mi chiamo Maddaloni Chi c'entra Maddaloni? Chi è Filippo? Chi è Filippo? Chi è Filippo? Sì è Filippo 100% Filippo lo sta dicendo il tuo capitano Dei tic tac E anche buon uso Sì è un cretino ma cosa sei venuto a prendere? Ma dove vengo gli appiedi? Ti fa accompagnare da qualcuno Sì quella è la Filippo Non so Non so Non dobbiamo tirare Non dobbiamo tirare Non dobbiamo tirare Sopra Super punish Ma io mi sto chiedendo una cosa Ma io mi sto chiedendo una cosa Non ho capito Tu non giochi più Tu non giochi più? Eh Meglio lo dire Buono Bravi Buono Bravi Di due Guardi Ma io sto parlando Ma io sto parlando un scemo però ogni tanto dovrebbe tirare anche un... Quale è il rating? Si se nemmo Non che puoce la tua giusta Dai, dai, dai Nessuno! Fai la palla, vieni, fai la palla Alla, che ti teni? Vieni, ciò Non siamo messi Ciro su la matta Io non c'è la pesta che riuscita Non c'è questo, parla, vieni E poi ci possono essere Ci fai fai Ci fai fai Ci fai fai Per i gatti Vai 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 Cosa? Non l'ho capito con coi Non mi ha metto una scuola Se ho detto un po' No, ma forse... forse dice... forse si appoggia con... All'avversario No, no Non ci pare Ma il giudice signor, chiaramente È chiaramente Oh, basta Dessere 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 Il gol è così, con posizione vostra! Tiriamo in porta, piccioni! Calma, calma! Il gol è così, con la sua scuola! È l'osso! 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 升 no con no salia va a pallar i piedi Un'altra mano... chi? no io ho messo anche il personaggio va bene, ci devi molti e qui non puoi e no 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 ma non ce l'ho detto vai dai attiva dai dai vai 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 oh affermi non sono ma non ne ho si ha detto che solo tu non facciate tu ti